Siamo con Vanni Ninni, delegato nazionale della CISAL, sindacato arte, cultura e spettacolo, un incarico nazionale che Vanni Ninni ha accettato di ricoprire in un'ottica quella della crescita della rinascita di Taranto con un punto fermo, la chiusura dell'ILVA di Arcelor Mittal. Partendo da questa mission che Vanni Ninni si è posto, argomentiamo un po', facciamo una chiacchierata sulla attuale situazione di Arcelor Mittal, diritti dei lavoratori negati, un inquinamento che cresce a dismisura e paradossalmente, per assurdo, il presidente e amministratore delegato di Arcelor Mittal, Lucia Morselli, definisce Arcelor Mittal una ricchezza, un gioiello della siderurgia in Europa. Penso che davvero la Morselli abbia oltrepassato ogni misura di decenza. Allora, partiamo da Cisal Sachs, che è un sindacato autonomo, forse uno degli ultimi sindacati nati in Italia. A luglio compirà un anno e veramente con molto piacere ho accettato di ricoprire questo incarico per la riconversione legata alla riconversione delle attività industriali su quelle che sono le vere potenzialità del territorio, quindi arte, cultura, spettacolo, benessere, quelle che sono proprio di un territorio come Taranto. A Taranto c'è questo stabilimento, prima di Talcider, poi adesso Ilva, ora Alcelor Mittal, che produce acciaio. Come professione, io ho ricoperto, nella mia professione sono stato uno dei primi responsabili della qualità negli anni 90, all'interno anche della Nato, dell'Acqua P120, per cui mi sono trovato anche a fare ovviamente dei sopralluoghi e delle valutazioni per quanto riguardava la produzione di questo stabilimento. Vi posso affermare che questo stabilimento ormai ha compiuto i suoi anni, per cui sembra strano che si voglia continuare a tenerlo in piedi perché è uno stabilimento che dopo 30 anni per gli accordi presi all'epoca, al momento della sua costruzione con la cieca, dopo 30 anni doveva essere già riconvertito. In effetti negli anni 90 e 95 l'onorevole Mastella, c'era il governo Berlusconi, venne a Taranto con un assegno in bianco già per riconvertire, per cause varie venne dato invece a Riva. Ecco, l'aspetto più assurdo è che se una volta c'era questa logica, ci si tura il naso, però almeno a fine mese si porta a casa uno stipendio pieno. Era il tempo, l'epoca del boom economico di Taranto. Io ho sempre condannato questo ragionamento, io non baratto uno stipendio con la salute mia, dei miei familiari e dei miei figli, ma la logica poteva anche essere quella. Oggi invece c'è un inquinamento dilagante e paradossalmente la situazione occupazionale all'interno di ArcelorMittal, considerando i dipendenti diretti di ArcelorMittal, i lavoratori ex ILVA in AS, considerando i lavoratori dell'indotto, e a questo punto non c'è più neanche la certezza occupazionale, perché la Morselli, per esempio, ha chiesto il taglio di 3.300 unità. Non verranno riassorbiti i 1.800 lavoratori ex ILVA in AS. Le ditte dell'appalto sono abbandonate a se stesse, quindi i dipendenti delle ditte dell'appalto sono abbandonati a se stessi, perché le ditte non ricevono nulla o ricevono pochissimo da ArcelorMittal. Quindi oggi abbiamo un'azienda che è in perdita economicamente e non si capisce per quale motivo eventualmente lo Stato italiano vorrebbe entrare, eventualmente affiancare o subentrare in ArcelorMittal. Per fare che cosa? Per indebitarsi ulteriormente? Permettimi Luigi, perché è una domanda molto complessa la tua. Io dico sempre che bisogna conoscere il passato per vivere il presente e progettare il futuro. Dobbiamo per forza partire da quella che era, tu hai parlato, il boom economico. L'Italia veniva fuori dalla guerra e Aldo Moro decise di, visto che lui era tarantino perché è nato a Maglia e mai vissuto a Taranto prima di diventare quello che è diventato, conosceva a fondo questa città, decise lui di impiantare su Taranto questo grossissimo complesso industriale che aveva la sua ragione di essere nel 61 quando arrivò a Taranto. Doveva durare però 30 anni. Il discorso è questo, che il motivo per cui è rimasta in piedi e sono state delle scelte scellerate fatte al momento in cui i privati hanno un solo obiettivo, quello di massimizzare il profitto. La cosa strana da chiedersi, più che il ruolo della Morselli che fa il suo lavoro come AD, è quello che deve fare. Deve tirare acqua al suo mulino. Come mai invece su questo territorio sia gli amministratori, sia i politici, sia la città è in erno e davanti a qualcosa che è chiaro che non può funzionare. I dati sono chiari, la gente va via da Taranto, da 300 mila abitanti, siamo passati a 190 mila, mentre tutti gli altri hanno avuto un incremento demografico e soprattutto non c'è più futuro. Un futuro che non può essere dato dalla grande industria. Perché? Perché l'industria, specie un'acciaieria, funziona dove la manodopera costa di meno e ci sono tanti paesi nel mondo dove costa veramente un decimo di quella che costa in Italia e dove soprattutto hai le materie prima, che non ci sono. Quindi è assurdo fare acciaio. Perché si fa acciaio in Italia e si è rimasti con l'idea di fare acciaio? Per un privato non è conveniente, ma per lo Stato italiano sì, perché l'acciaio ci consente di stare nelle nazioni più progredite, nel famoso G7, nel G8 e soprattutto ci fa alzare il PIL. Questo fino a quando è arrivato a marzo il virus. Il virus doveva e ha cambiato completamente le carte in tavole per tutto il mondo, tranne che per Taranto. Si è capito che la salute è al primo posto, che non è importante produrre. A Taranto invece bisogna continuare a produrre in una città satura di veleni, che non può sopportare neanche un milionessimo di nanogrammo di veleni in più, si continua a farlo a fronte di cosa? Del nulla. Perché parliamo di 10.800 dipendenti. Quando Little Cedar venne creato a Taranto, l'accordo fu come ristoro economico, le famose royalties, di dare a questa città negli anni 60 42.000 posti di lavoro. Posti di lavoro che con il tempo sono completamente diminuiti e oggi è inaccettabile, continuiamo a parlare, ma neanche dei 10.000, dei 5.000, dei 3.000 esuberi. Chiudendo l'acciaieria, noi come Cisal Saks, sindacato autonuo di arte, cultura, spettacolo, legate al benessere, alla felicità, che devono essere al primo posto nella vita di un uomo, e in questo territorio più che in altre parti, abbiamo preparato un progetto di riconversione, abbiamo fatto un convegno alla provincia di Taranto il 12 febbraio, proprio poco prima che scoppiasse il virus, in cui andavamo a illustrare con tantissimi relatori una serie di attività che si possono fare in questo territorio, che invece di avere 10.800 dipendenti in gravi problematiche, diamo posto di lavoro per 50.000 persone legate a quelle che sono le peculiarità del territorio. Infatti, questo è opportuno precisare che l'alternativa c'è ed è certamente di gran lunga più ricca e più dignitosa di quelle miserie, di quelle briciole che ormai Arcelor Mittal così elargisce, e dicevo molte volte, molte volte ci si imbatte in reazioni dettate, io dico, dalla ignoranza, ignoranza intesa come mancanza di conoscenza, perché spesso il cittadino ti dice e vabbè, e se l'ilva chiude, dove andiamo a mangiare? A casa tua? Beh, io intanto rispondo in un modo, rispondo per le rime dicendo e se io mi ammalo di tumore, dove vado a curarmi? A casa tua? Ma il problema dell'andare a mangiare a casa di un altro nell'ipotesi in cui l'ilva chiudesse è un non problema, è un problema inesistente, atteso che il territorio di Taranto in termini di cultura, spettacolo, risorse naturali può, scusatemi l'espressione, fottersene dell'ilva. Approfondendo questa problematica, io dico sempre, ogni problema ha una sua soluzione, un grosso problema ha una grossa soluzione, ma c'è, bisogna affrontarla. Affrontando questa soluzione si comprende chiaramente che ci sono delle esigenze differenti nei vari attori, più che del privato, c'è una volontà di qualsiasi governo sia andata ad amministrare la nostra nazione, quella di tenere in piedi l'ilva di Taranto. Perché? Perché consente di avere 8 milioni di tonnellate di produzione di acciaio all'anno, perché è il minimo per poter stare in quel discorso del novero delle grandi della terra, però in cambio con che cosa? Sacrificando totalmente un territorio che ormai è arrivato veramente a parlare di un genocidio in corso, inarrestabile. Come si può risolvere? Consentendo che la produzione continui con un progetto complessivo di riconversione, in cui bisogna ridurre al massimo la produzione, in effetti la produzione adesso circa sui 3 milioni di anni e siccome ogni milione di tonnellate per l'economia consente di assumere mille persone ed essere produttiva per mille persone, parliamo sempre di privato, qualsiasi privato tiene in piedi 3 mila dipendenti con 3 milioni di produzione annua. Il governo vuole portare 8 milioni di dipendenti per stare dentro dei calcoli che non so da dove li escono fuori, visto che da un punto di vista economico è talmente grande il ristoro che deve dare a questa città che dovrebbe ricoprire ogni suo cittadino di oro dalla testa ai piedi. Però al di là di questo noi dobbiamo dire che si può risolvere il problema di dare 8 milioni di tonnellate annua e come? Dislocando quello che questo territorio non può più sopportare e lasciando liberi degli spazi enormi che grazie alla riconversione in attività alternative che sono proprie del territorio e parlo di cantieristica navale che è stata nel tempo completamente abbandonata di tutti questi stabilimenti in cui possono esserci produzione di energia con nuovi metodi legati ad idrogeno e quant'altro. Quello che è legato proprio a Taranto come città dove è nato uno dei più grandi miti del cinema parlo di Rodolfo Valentino dove è in piedi un progetto per fare il Cineporto Rodolfo Valentino dove le strutture dei capannoni possono servire per il mondo della cinematografia e ci sta un ritorno enorme sia in termini di occupazione che di termini economici tantissime altre attività fatte nelle aree lasciate libere una minima parte con i 3 mila dipendenti rimarrebbe a funzionare per ulteriori 10 anni fino ad avere una sua fine naturale dove si fanno gli ulteriori 5 milioni di tonnellate annue nel 71 ci fu una guerra una guerra civile quella che venne risolta col famoso pacchetto Colombo a Reggio Calabria perché il quarto centro sireurgico doveva nascere a Gioia Tauro è pronta perché quello che viene avanzato da alcuni politici su Taranto con metodologie Finex, Corex forni elettrici a freddo decarbonizzazione e quant'altro si possa fare tranquillamente a Gioia Tauro per gli ulteriori 5 milioni di tonnellate e questo è il modo per salvare fra virgolette capre e cavoli dove le capre non sono certi i tarantini per concludere Vanni il progetto quello che hai esposto è perfetto che è sul tavolo del governo questo progetto qui volevo arrivare sia a Conte all'epoca lo consegniamo anche a Di Maio però questo questo governo sono pronti ad esplicarlo al meglio questo progetto però purtroppo raccoglie una assoluta indifferenza da parte del governo da parte della regione da parte degli enti locali e quindi del comune ricordiamo la campagna elettorale dei 5 stelle basata sulla chiusura dell'Ilva ora si sono rimangiati tutto e hanno fatto il contrario di tutto ma al di là dei 5 stelle che sono ormai stelle cadenti e non mi interessano però c'è un fatto che la realtà è che in Italia e a livello di governo e a livello di poteri locali c'è il terrore di dire chiudiamo l'Ilva questa è la realtà e questo è il motivo purtroppo per il quale il progetto che hai esposto certamente plausibile un progetto che davvero muterebbe capovolgerebbe la realtà di Taranto non trova accoglimento perché ci sono degli interessi ci sono delle forze oscure che attraverso le quali e a causa delle quali il mostro rimane in piedi togliere oggi la possibilità di produrre 8 milioni di tonnellate di acciaio significa per qualsiasi governo prendersi un impegno notevole a livello nazionale e non lo farà mai nessuno perché come i nostri rappresentati politici non l'abbiamo mai avuto ma non per limiti delle persone ma proprio per limiti istituzionali noi contiamo quanto il 2 di picche sia a livello di consiglio regionale dove quei 7 eletti del nostro territorio che fanno parte sia 9 adesso dell'opposizione e della maggioranza per cui sono il nulla assolutamente rispetto a una forza completamente maggioritaria di Bari e anche forse di Lecce che quindi sposta l'asse verso quella parte fa sì che questo territorio non conti nulla chiunque vada al governo ma anche se ci andasse Gesù Cristo a questo governo continuerebbe a far sacrificare un'unica città per il bene del resto della nazione è quello che deve essere chiesto a gran voce dai cittadini ma se sono pochi e non hanno la soluzione che noi gli abbiamo dovuto trovare salvare capri e cavoli significa che se il governo italiano ha bisogno di produrre 8 milioni di tonnellate e noi abbiamo bisogno che si fermi questa visione di Taranto città industriale perché possa fare con benessere felicità con soddisfazione una serie di attività negli anni negati che hanno consentito a tutti di andare via e di non fare quello che si poteva fare oggi si può dire c'è la soluzione come? con andando a garantire questa produzione fra Taranto e Gioia Tauro consentire in modo che non sia Taranto l'unica città in Italia a sacrificarsi anche in questo periodo di coronavirus dove tutti dicono la salute è al primo posto va bene per tutto il mondo tranne che per Taranto il governo lo Stato italiano deve privatizzare l'ILVA non lo può fare deve tornare a satellizzarla perché qualsiasi privato la porterà in perdita siccome è una necessità di tutta la nazione così come hanno salvato l'Italia hanno salvato tantissime aziende che non erano sostenibili da un punto di vista dell'economia private ragionate sui libri di economia aziendale un'azienda così grande non può essere costruita in una città con degli stipendi così alti come l'Italia ecco perché converrebbe farlo in India in Cina in Giappone o in Brasile tranne che in Europa addirittura un'ultima mia considerazione rapidamente sono convinto che se a chiudere il mostro non è stata capace la magistratura se la spinta seppure incomiabile delle associazioni ambientaliste non è riuscita in questa direzione il governo meno che mai è intenzionato io sono convinto che poi sarà la legge del mercato a farla chiudere quella che è una legge inesorabile a cui nessuna azienda può sottrarsi sicuramente ma questa legge c'è già ecco il motivo per cui già da tempo è stata ridotta la produzione a 3 milioni con 3 mila dipendenti gli altri sono tutti ammortizzatori sociali questa situazione fa sì però che tanti imprenditori io ne conosco tanti tantissimi che verrebbero a investire nel nostro territorio non lo fanno perché c'è la visione che Taranto è una città avvelenata bisogna dare sicuramente lo rimarrà per tanto diciamolo chiaramente lo rimarrà per tanti anni perché la natura dovrà fare il suo corso naturalmente per rigenerare il territorio però nell'immaginario colteltivo dire che oggi si è deciso che l'ILVA deve chiudere che avvenga fra 5 anni fra 10 anni stabilirlo oggi significa mettere in moto un meccanismo virtuoso dove tutta la meravigliosa litoranea che abbiamo bloccata dal condone di Lizio dove non hanno più fatto i piani particolarizzati è rimasta una villetta sia una no senza fogna senza strade senza altro si rigenera tutti e già gli investitori pronti a venire a investire con grossi capitali per rigenerare tutta la nostra meravigliosa litoranea abbiamo un tesoro enorme nella nostra città che non viene valorizzato al massimo vogliamo parlare di quello che rappresenta la marina militare su Taranto con le storie la Vittorio Veneto che vogliono vendere come la mette ai turchi una nave che ha 50 anni di vita dove hanno fatto il militare tantissimi ragazzi che oggi tornerebbero con figli e nipoti per salirci a bordo senza problemi di amianto e niente perché non ci sono sono all'interno uno la chiude va sul ponte di volo fa attività artistica culturale proiezione di video un aperitivo a bordo è quello che la gente vuole per visitare una città essere contenta e lasciare ricchezza noi abbiamo tantissima economia l'abbiamo illustrata l'abbiamo data su un piatto d'argento a questo governo continueremo a farlo a gridarlo a gran voce è un sindacato che unisce arte e cultura quindi artisti cinema teatro musica attraverso le arti tutti hanno gridato a gran voce che è il momento di cambiare la natura stessa con questo virus si è ribellata abbiamo capito che così non si può più andare avanti dobbiamo fare in modo di tornare a quelle che sono le cose che ci fanno stare bene e questo significa invertire la rotta cambiare la rotta smettere con la visione industriale e puntare su altro grazie a tutti 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 grazie a tutti